di Massimo Troisi, Enzo De Caro e Nel Varena vedremo sul palco Alessia Falvo, Sofia Bargellini e Barbara Tola la sceneggiata andiamo A Napoli regnava in contrastanza Donna Carmela Pazzifal capo guapa, dieta, cattiva e senza scrupoli ah donna Carmela facete proprio paura? io so un mio vedente nel quartiere vive anche l'aspirante guapa cicciuzza buavo non vive la domanda io beh,구 mi ha esatto a te lasciam stare la starea qui sentite la domanda e io a domanda e io chi comanda non vive la? e come stava dicendo chi comanda non vive la? Eh, come voleva dicere? Come voleva dicere? Eh, ti avete da male a me per piacere, non mi voglio di male. Guappa, non so, guappa su chi. E se ti trovo di nuovo, ti taglio questa faccia liscia, questa faccia simpatica, questa faccia bella. Beh, proprio bella. Ah, ho detto bella. Ci siamo spiegati? Ha portato il termine che non me la farsi fare. E poi, se ti vuoi chiamare veramente guappa, devi avere il coraggio di venire davanti a me. Tornate a me, siete fessi. Eh? Che dico? No, 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 no. Adesso lo dici. No, io non lo voglio. Per dirlo. Ma tu, guappa, devi stare. Adesso lo devi dire. Eh, io non lo voglio dire. Adesso lo dici. Vabbò, lo dico però, eh. Madonna che a me ci ciuzza non tiene fegato. Pace l'anna. Ma aspetta un po', eh. Madonna che a me siete fessi. Eh? Madonna che a me siete fessi. Meglio che te ne vai qua, se non ti faccio male. Vatti. Eh, lo dicevo io che non teneva fegato. E io? Tenevo un appuntamento, va. Eh? Madonna che a me siete fessi. Ma non c'è capire mia c'era mamma. Eh? Come la c'era mamma? Donna Carmela? Ma io sono te lo sogno. Come? Sei a più grande quartiere. E allora che basta? La c'era mamma. A ballare donna Carmela farsi fa. Oh! Nel ventre entrò la madre cicciuzza cantando. Buona giornata a tutti. Cantando. Buona giornata a tutti voi, eh. Innanzi a lei si chiama minacciosa donna Carmela dicendovi. Ma voi siete una più sicura che la madre cicciuzza? Eh? Sì, signore. Siamo come due gocce d'acqua. Signore, io vi devo ammazzare. Pensate che pensate ci scambiano pure i passerelli. Signore, io vi devo ammazzare. Oh! 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 Ma fammi aspettare un po'. Oh! 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 T'atesito! Mi becca! E' una pezza molto miara! Guarda te! Oh! 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 E' pronto non fanno accorgere tutto quanto, no? Mamma mia, ma che cazzo non mi ha detto? Madonna, ma che cazzo ti faccio? Madonna! Non una lacrima, non un'emozione sul carino e il viso criminale di donna Carmela. Ma io sono anche, sono anche dei fascisti, chi le fa? Non me la fai fare! Non c'è la mamma, non c'è la mamma! Cingiuzza meditava la vendetta e sul suo volto passavano l'odio, l'angoscia, la rabbia, la subornazione. La subornazione. Anche la scienza. Come c'è la subornazione? La subornazione è come una rabbia che è arrabbiata. Ah, cioè la rabbia per la rabbia. Che è arrabbiata da rabbia. Allora... Appena viene donna Carmela ha figliato bobbietto ricca. Donna Carmela. Scusate, la pomotrice. Appena viene donna Carmela ha figlia bobbietto ricca. Donna Carmela. Ma che è un subornazione? Ehi, è stato un buon'azione! Ehi, è stato un buon'azione! Appena ho fatto la carmella della figlia, poi ho vinto un po' Dornando a me! Brava, avanti così! Dornando a me, io ti giuro che... Adesso non ho neanche giurato! Non mi sentirei che da dire, bamba! Io non ho niente! Come niente? Ah sì, tornando a me! Cioè, in fondo mia madre, cioè, teneva pure una certa età! Ma come teneva una certa età? Sì, era anziana! Dona che bella! Un piacere! Non mi ho passato mai! Se hai qualcosa da dire, mi viene a chiamare! Ha parlato una donna che bella participata! Pappo! Allora mi volete sforzi! Basta! Mi so scucciare! O io, o tu! Ehi! E' brava! E' sempre stato un buon'azione! Cazzo del gatto! Eh, ci deve essere un errore! Ma quale errore? Sembra così è stato! Se tu uccidi a me, poi diventi cartone! Per uccidere a me ci vuole un altro fedente! O volessi essere tu! Vuoi dire che io sono fedente? Tu! Fedente! Ma quale mai? Allora cerchiamo un fedente in mezzo a uno? Eh! E non ci stanno! Piano, eh! Certo! Ma vuoi vedere? Che con tutta sta gente un fedente non lo trovi! Non esiste! Madonna santa! E mica voglio passare tutta la notte qua! Ah! C'è tutto il giorno il mercato! Ah! Ho trovato una bella madre per finire a stare già! E ti dice? Lo perdono! Ma come lo perdono? Quello è cattivo! E' cattivo mo! Chi sto? Ma dico chi sto? E' carattere! Musica! Grazie! Ehi! Grazie! Grazie! Un pezzo straordinario!